Eureka, ormai più che un progetto, un percorso? Un percorso che quest'anno finisce il primo ciclo e quindi possiamo fare delle riflessioni importanti anche perché è un progetto sicuramente che ha delle grandissime potenzialità. Forse dobbiamo riflettere per aggiustare perché mi sembra ovvio che mettere insieme realtà così diverse come l'università, l'azienda, anche la regione. Ognuno di noi ha una vocazione diversa, siamo partiti con l'entusiasmo, ci siamo dedicati molto a questo progetto e per fortuna abbiamo anche la possibilità di fare delle riflessioni per cercare di prendere il più possibile dal progetto perché penso che ci siano delle cose nel progetto che potrebbero essere potenziate di più.